Se sei abituata a lasciare il ferro da stiro sulla fodera, questo è il tuo tavolo da stiro ideale. Perfettamente stabile, con una superficie ellittica molto ampia, permette di utilizzare entrambi i lati della sagoma a spalla ed è perfetto anche se si desidera stirare da sedute. Puoi lasciare semplicemente il tuo ferro appoggiato sul tavolo da stiro, che include un poggiaferro in silicone resistente al calore, garantendo così l'assenza di macchie di bruciatura sull'elegante fodera. Questo tavolo da stiro intelligente possiede un blocco di sicurezza che previene la chiusura accidentale, un dispositivo indispensabile quando si hanno dei bambini piccoli. Inoltre, questo blocco evita che il tavolo da stiro si apra quando non vuoi. Il piano da stiratura misura 135 x 45 cm nei punti più larghi, l'ampiezza permette una maggiore facilità di stiro e l'altezza è sempre regolabile da 61 a 102 cm. La fodera è sempre tesa e perfettamente adattabile. Sono inoltre disponibili eleganti fodere sostitutive.